Buonasera, questo concerto ha due parti, la prima parte è con l'orchestra di Jimmy Giuffre e dopo l'intervallo la quartetta di Jerry Mulligan e adesso sono felice di presentare i musicisti di il trio di Jimmy Giuffre, con il contrabass di Buddy Clark il guitarista, Jim Hall On clarinet e saxofone, Jimmy Giuffre Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti